Questa mostra voluta dalla provincia è un evento davvero importante per la città di Lodi, ospitato in una location davvero significativa come quella della sede espositiva della Banca Popolare Italiana, ma più simbolicamente in una location ancora più affascinante, che è la città di Lodi. Credo che i visitatori di questa mostra potranno certamente apprezzare le opere che saranno esposte, ma soprattutto potranno poi cogliere l'occasione per visitare la nostra città, le sue bellezze artistiche e architettoniche, i suoi angoli più nascosti e anche io credo apprezzare l'ospitalità dei Lodi Gianni sotto forma di luoghi di ristorazione, di luoghi di incontro, di luoghi di ritrovo, con al centro la piazza principale della città che è certamente simbolo di storia, ma anche realtà vera di aggregazione sociale.